Energia costruttiva, sempre, 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 ok, allora, por favor, bene, ok, bene, prima linea, una linea, one line, ok, one line, ok, second line, ok, 3 line, ok, e 4 line, ok, ok, le dico, ok, iniziamo un po' un po' di metodo, parà parà, parà, parà parà, parà parà, ok, allora, le dico, man, eh, one man, no man, one man, no man, So, show me, show me, ok, 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 quindi per guidare le nostre dati, Bengare, c'è bisogno di connessione, deconnezione e trasporto, ok, trasporto, e quale di, quale di, quale di con me, quale di con me, quale sono, ballovo, ok, quindi, look me, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 Energy 1, 2, 3, 4, Energy Energy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Primera parte, from the top 8, 1, 2, and touch, 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 touch And Energy Yes or yes? Easy And 5, 6, 7, 8 Yes or yes? Yes Attention please For the change Change the man Ok? No lady, ready, stop Man Le ballerine Le ballerine Le ballerine Le ballerine Le ballerine La prima quita Le ballerine 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 7 e stop yes or yes?